Amici di Raiuno, buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie di traffico di questo ponte di Pasqua. Il maltempo non frena la voglia di vacanze, sono previsti 15 milioni di automobilisti in viaggio e per facilitare gli spostamenti sono stati rimossi circa 300 cantieri di lavoro. Lunghe code con tempi di percorrenza elevati, disagi in queste giornate di esodo vacanziero con ingorghi, code in particolare con le direttrice nord-sud. Tal proposito monitoriamo le immagini che ci giungono in diretta dall'autosore all'altezza di Piacenza, come vedete flussi intensi di traffico in entrambe le direzioni. Andiamo alle porte della capitale, esattamente alla diramazione di Roma-sud e queste sono le code in uscita da Roma verso Napoli, ma anche per i flussi intensi di traffico diretti anche al litorale laziale e alla costiera amalfitana. Bollino rosso oggi di traffico verso la riviera Ligure, la riviera Romagnola e sono previsti, pensate, molti turisti stranieri, pertanto flussi intensi di traffico anche ai valichi di frontiera. Oggi gli spostamenti sono agevolati dallo stop e mezzi pesanti fino alle 22. Con l'ausilio della grafica vediamo anche che domani dalle 9 alle 16, il giorno di Pasqua e Pasquetta dalle 9 alle 22 e poi martedì dalle 9 alle 14. Stasera a Roma alle 21 a Piazza del Colosseo sarà ufficiata la solenne via Crucis con eviabilità modificata, con interdizione al transito veicolare, con diverse vie in tutta la zona. Per quanto riguarda gli anticipi del turno pasquale del campionato di calcio di Serie A da circa 3 minuti è iniziata la partita salernitana-Inter, più tardi ci sarà Lecce-Napoli, mentre il turno serale vedrà il Milan sfidare l'Empoli presso il Meazza e domani alle 16 Torino-Roma alle 20.45 Lazio-Juventus con possibili rallentamenti e code per l'afflusso dei tifosi nei pressi degli stadi. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità, guidate con prudenza, fate buon viaggio e vi giunga l'augurio da parte mia e da tutta la struttura di Rai Pubblica Utilità di una serena Pasqua e un arrivederci a presto.